Salve a tutti, scusate l'assenza dal canale in quest'ultimo periodo, ma ora cercherò di impegnarmi e di farvi più video possibili. Dunque, come vedete la location è un po' cambiata, questa è la stanza dove io lavoro e niente, spero che anche la qualità video adesso sia migliore, in quanto ho acquistato una videocamera. Partiamo subito. Oggi vi voglio parlare del quilling. Questo è il primo lavoro che ho fatto. Eccola qua. Questo è il primo lavoro che ho fatto e poi ho fatto quel cappellino che avete visto nel mio scorso video. Allora, il quilling qui da noi non è molto conosciuto come tecnica. Io l'ho scoperta grazie alla Opitec. La carta si acquista in strisce già tagliate. Questa è la versione piccola. Un attimo che ho la videocamera, adesso ancora non ho fatto bene pratica, quindi non riesco a far vedere bene. Questa è quella piccolina. Poi vi faccio vedere per cosa serve. Poi ci sono le fasce. Queste più lunghe. sono legate da una parte e dall'altra. Nel momento in cui li acquisti sono due tipi. Quelle larghe, che sono queste, e poi ci sono quelle più strette. Un attimo che ve la provo. Non so se riuscite a vedere la differenza. Sono più strette. Difatti la carta per il quilling varia, di altezza intendo, dai 3 mm ai 10 mm. poi vi serve il lago. L'ago, un attimo che vi faccio vedere. Ecco, ha questa fessura qui che permette di bloccare la carta per poterla arrotolare. In alternativa potete sostituire il lago, potete crearvi questa fessura. Le strisce anche potete farvele a casa. Io ho provato un sistema un pochino strano, diciamo, ma simpatico. Con la macchina della pasta. Con la macchina della pasta, nello spazio dove tagliate questo qua. Dove tagliate il che fa abbastanza bene. Cioè giusto per cominciare magari potete procedere così. Poi vi serve un attrezzo di questi. Un tappetino di sughero. Poi degli spilli. eccoli qua. Eccoli qua. Quindi le pinze. Pochi altro. Lo stuzzicadenti. Di questi qua lunghi. La colla vinilica. E basta. Vediamo adesso le... Vediamo al tutorial. Tutorial, oddio. vi faccio vedere le forme base. Avevo dimenticato. Prima di iniziare voglio farvi vedere altri lavori che ho creato di recente. Allora ho fatto questo bigliettino. Questo qua. Con... C'è le prime forme. Queste qua più a goccia. Queste a goccia. Queste... Io le chiamo forma a foglia. Ma in effetti è stretta dalle due parti. Così. Poi queste insomma con forme varie. Riccioli. Ehm... eccetera. Insomma l'ho fatto. Poi vi faccio vedere questo qua. Questo è realizzato con questo tipo di fasce. Il primo che vi ho fatto vedere. Queste qua strette. E... Si taglia e si intrecciano normalmente come... Come si fa con i cestini. Diciamo. Ecco. Questo qua. Fatto con un bigliettino. Giusto per farvi vedere. Poi vi faccio vedere anche un pochino di... Di tentativi. Allora. Questo dovrebbe essere un girasole. Poi vi faccio vedere come... Come si fa nel... Appena iniziamo il tutorial. Questo è stato il primo tentativo. Come vedete c'è la... La parte interna. Marron. Troppo... Troppo larga. Poi questo è il secondo tentativo. E questo è quello... Che a me personalmente piace di più. Perché... Ehm... Nel tagliare la... La carta. L'ho... L'ho fatta un po' a punta. E dà proprio l'effetto della... Della fogliolina del... Del girasole. Qua... Poi ho creato un... Un fiore. Questo qua. E poi si possono realizzare anche delle forme in 3D. Io qui ho realizzato una piantina. Eccola qua. E il problema... Che io... Incontro è la... Cioè quanti centimetri ho bisogno per... Realizzare un qualcosa di 3D. Per esempio per fare questo vaso. Io ho utilizzato due fasce di queste qua larghe. Una attaccata all'altra. E niente. Quindi è solo il problema della... Di quanto deve essere lunga la fascia. Più lunga la fascia più giri saranno il... Chiaramente il... Di... Più giri saranno insomma. Allora iniziamo subito. Bloccando la carta in questo modo. E iniziate a rotolare. E iniziate a rotolare. E iniziate a rotolare. E iniziate a rotolare. Ecco tirate così. Allora se lo volete stretto magari dovete fare l'interno di un fiore. Ci mettete solo un pochino di colla all'estremità. ed è fatta altrimenti lo andate a mettere in una delle forme che voi andate a scegliere naturalmente più grande sarà la forma meno giri avrà all'interno lo metto qui anzi lo mettiamo qua perché mi sa che è troppo stretto e fate una forma lo allargate un po' poi con la colla io tolgo il tappino della colla per facilitare il prelievo della colla scusate la ripetizione ecco mettete un po' di colla e e lo attaccate semplicemente questa è la forma base dal quale parte ogni altra forma del quilling allora e niente per fare la forma a goccia dovete solamente stringere così da un lato in questo modo vedete e questa è la forma a goccia naturalmente potete fare anche la la goccia non so come dire insomma un po' più più storta in modo che vi venga ecco qua così cioè quando andate a schiacciare girate un attimino ed è questa dimenticavo di dirvi che gli spilli vengono usati nel momento in cui dobbiamo assemblare insieme i pezzi le varie parti magari stiamo facendo un fiore o qualcosa del genere io sinceramente per fare più preciso spesso e volentieri lo uso anche in questo modo qua cioè mettendo la colla sulla parte finale e poi metto lo spillo contro la la cioè della carta in modo da fare pressione sul sul bordo del righello chiamiamolo così per per farlo aderire meglio ma di solito insomma quando usiamo per esempio per fare questi lavori mettiamo insieme sul sughero e avviciniamo le punte del petalo e niente le teniamo insieme con lo spillo serviva per questo mi era sfuggito prima di dirvelo ora vediamo le altre forme allora abbiamo visto la la goccia poi per fare quello diciamo a foglia che sembra pure un occhio schiacciamo prima da una parte e poi dall'altra in questo modo vedete poi naturalmente si può fare piatta di sotto schiacciandola verso cioè la parte di qua farla piatta e dare forma più rotonda sopra ci si può poi veramente scatenare con la fantasia questa era quella a schiacciata da entrambi i lati questa foglia poi naturalmente si può fare in questo modo e viene una goccia cioè una goccia una una foglia storta diciamo a S quasi poi c'è la forma triangolo per fare la forma triangolo si schiaccia in basso in questo modo così ecco qua triangolo e poi si gira dall'altro lato e si appunto fa anche dall'altra parte in questo modo ed è il triangolo poi per il quadrato è lo stesso discorso che per il triangolo si schiaccia prima dai lati sotto e poi dall'altro lato è un pochino più complicato ma non impossibile eccolo qua doveva venire un attimino con i riccioli più sistemati ma la forma è questa eccolo qua poi queste sono le forme chiuse poi possiamo fare anche i riccioli questo è un ricciolo a S prendo una fascetta e si inizia ad arrotolare prima in senso in questo senso qua orario un po' a seconda di quanto volete grande il il ricciolo mi fermo più o meno a metà tirate e se da questa parte abbiamo arrotolato in questo senso dall'altra parte facciamo nel senso contrario così e con questa tecnica potete fare anche io per esempio ho fatto questi riccioli qui della pianta con una fascia ne ho fatti due perché piegati a metà e ho fatto due pezzi ecco vedete poi li potete allargare un po' io nella pianta per esempio li ho piegati in questo modo così vedete qua vi farò vedere come facciamo un cuore allora prendo la pinzetta forbice o la forbice pinzetta che dir si voglia e arrotolo non vedo niente va bene comunque eccolo qua arrivo questa è metà fascia chiaramente eccolo qua tolgo dall'altro lato e facendo in modo che i rotolini si formino dallo stesso lato della striscia eccolo qua arrotoliamo arrotoliamo vedete questo lo pieghiamo a metà in questo modo e si forma una specie di di cuore poi assemblare tutti i pezzi insieme c'è tutta una questione di fantasia per creare questi girasoli poi comunque creeremo insieme un piccolo lavoro utilizzando questi girasoli arrotolate una fascetta di carta marrone in modo molto stretto e lo attaccate eccolo qua la fermate magari con uno spillo o con una pinzetta e cominciate a tagliare in questo modo non so se riuscite a vedere creando proprio una una frangia e procedete così per tutta la lunghezza ci vuole dopo di che ottenuto questo arrotolate la carta sul rotolino marrone che avete già precedentemente fatto e continuate a rotolare e alla fine aprite poi i i petali e ottenete così il girasole dimenticavo anche di dirvi che si possono creare delle rose oddio cascata si è suicidata eccola qua delle rose come si fanno le rose per questo per la rosa mettiamo blocchiamo la carta in questo modo e facciamo un paio di giri dopodiché si piega la carta ora non so se riesco a farvi vedere perché dovrei lavorare con la camera da questa parte si piega la carta in questo modo e si gira può ancora si gira e si piega di nuovo la carta in questo modo e si gira si gira si piega cioè non si finisce neanche il giro continuato in questo modo ora io non riesco a guardare là e piegare di qua comunque il procedimento è questo qua dimenticavo di dirvi che la carta per il quilling vanno bene anche i fogli da stampante però deve non scolodire nel momento in cui mettete la colla ecco io direi che la tagli la tagliamo qui dove ho messo una forbicina che taglia ecco qua e si mette naturalmente la colla e un pochino diciamo sembra più un bocciolo comunque in questo modo si fa la la rosa anzi ciò che ci sono mettiamoci un puntino una puntina di colla eccolo qui e lo buttete un po' eccolo qua e niente così questa è la rosa fino ad ottenere un risultato del genere vedete tutto sprangiato che altro dire spero che il tutorial sia stato utile e niente vi saluto al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti